Scusate, sicuramente ci vuole ancora qualche minuto, si stanno preparando, c'è ancora qualche momento da partire per pazientare? Ok, allora, intanto chiedo il tuo nome? Anna Maria Anna Maria, ok, si tratta, non è la prima volta che vi esibite, vedete già un'esperienza alle spalle? Piccola esperienza Piccola esperienza, ok, da dove venite? Da Roma Da Roma, ok, siete vicini Allora, vi chiamate, diamo i nomi di tutta la band? Francesco Piano Francesco Piano Claudio Cicchinelli alla batteria Saludati per Paolo Al pass Ho paura di lui, che soglia un errore E Peter Love Perfetto Bene, quindi ci siamo Di qualche momento Dero canta, d'occhina Grazie a tutti Perfetto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.